Salve a tutti e benvenuti ad American Thought Leaders da Yanni Echilek. Oggi il nostro ospite speciale è un volto noto, Cash Patel, consigliere del Presidente Trump. Cash, è un piacere riaverti qui. Yanni, il piacere è mio. Oggi parliamo del rapporto della Commissione per i fatti del 6 gennaio. Nel luglio 2022, noi avevamo già affrontato il tema dell'autorizzazione al dispiegamento di 20.000 soldati della Guardia Nazionale. Come mai noi lo sapevamo già due anni fa? Sai, Yann, la cosa divertente della verità è che non cambia. A cambiare sono le varie interpretazioni, la propaganda, la disinformazione. Ma tu avevi un testimone oculare, cioè me. Io ero nello studio Vale, nei giorni precedenti il 6, con il Presidente, quando Trump autorizzava l'intervento di oltre 10.000 uomini e donne della Guardia Nazionale. Lo ripetiamo da quel giorno. Io ho testimoniato davanti alla Commissione. Sono stato citato in giudizio dal procuratore speciale della giustizia. Ho rilasciato interviste in tutto il paese. La verità è sempre la stessa. L'autorizzazione c'è stata. Abbiamo inviato alti funzionari della giustizia a sindaco Bowser e a Nancy Pelosi, quali responsabili di Washington. A norma di legge, dovevano essere loro a presentare richiesta per la Guardia Nazionale affinché quest'ultima si potesse dispiegare. Ma il primo passo è del Presidente. E infatti Trump l'aveva autorizzata. Poi serviva alla loro richiesta, come il governatore fa magari dopo un disastro in California, oppure per un grande evento sportivo in Kansas. Qui si trattava di Washington DC, quindi spettava il sindaco. Ma per iscritto, il sindaco Bowser e Nancy Pelosi hanno respinto l'offerta. Abbiamo pubblicato quelle risposte. È nero su bianco. Ma i media mainstream da anni attaccano questa verità, perché sbugiarda la loro storiella dell'insurrezione. E anche va bene togliersi il sassolino dalla scarpa. Ma ora, l'importante è far conoscere la verità. Quando l'ho saputo, sono rimasto alquanto sbalordito. Ne avevamo parlato. E tu mi avevi fatto vedere le ricevute, che sono diverse, non è solo una. E le ricevute dimostrano come sono andate le cose nella realtà. Ma cosa è successo con la Commissione per i fatti del 6 gennaio? Guarda, è molto semplice. La Commissione per il 6 gennaio praticamente ha replicato il giochino del Russiagate, quando l'FBI è andata a mentire a un giudice federale e ha nascosto le prove dell'innocenza del presidente Trump per sorvegliarlo illegalmente e propagandando la bufala del Russiagate secondo cui Donald Trump era un agente russo. La Commissione per il 6 gennaio, con Liz Cheney e Adam Schiff e altri individui, ha nascosto una trascrizione. Tony Ornato, un ufficiale di grande esperienza del Secret Service e quindi assegnato alla protezione del presidente che lo scortava ovunque. Anche nello studio ovale, ha testimoniato più di due anni fa alla Commissione confermando che Trump aveva autorizzato la Guardia Nazionale giorni prima del 6 gennaio. Parliamo di diverse deposizioni sotto giuramento che Liz Cheney aveva nascosto fino a poco tempo fa. Perché? Perché questa trascrizione distrugge la campagna di disinformazione sull'insurrezione della Commissione per il 6 gennaio e del mainstream. Gli americani dovrebbero essere sconvolti dal fatto di essere stati privati della verità per così tanti anni, come nel Russiagate. Ma questa volta il Parlamento ha partecipato alla campagna di disinformazione. Parliamo di questo rapporto in generale. Qual è la tua reazione? Penso sia un buon passo verso la verità. Il presidente Loudermilk ha denunciato che prove sono state nascoste e distrutte da certi parlamentari. E le prove sono state manipolate da parlamentari e da personaggi come Cass di Hutchinson. Un altro fatto che apprendiamo ora è che il presidente Trump non ha mai tentato di prendere il volante della limousine. Perché l'ufficiale del Secret Service che guidava la limousine quel giorno ha detto che il presidente Trump non ha mai fatto niente di simile. Quindi, io ora voglio chiedere che la Camera dei Deputati citi in giudizio Liz Cheney e Cassidy Hutchinson e le sottoponga a un'udienza pubblica per chiedere loro perché si siano messe d'accordo per dire questa menzogna. E non una volta, ma almeno due. Perché hanno mentito al popolo americano su informazioni così importanti? Risposta, loro volevano la campagna di disinformazione dell'insurrezione per poter chiedere ai tribunali e allo Stato di togliere Donald Trump dalle schede elettorali per insurrezione. Volevano impedire alle persone di votare sulla base della verità. Cosa intendi con non una ma due volte? I due episodi principali sono quello della limusine e della Guardia Nazionale. Su queste due prove fondamentali, su cui noi abbiamo testimoniato per diversi anni, la Commissione del 6 gennaio ha consapevolmente ingannato il popolo americano ai fini di disinformazione. Credo che tutti i membri di quella Commissione debbano essere citati in giudizio. Tutti i documenti, le telefonate, gli SMS, le e-mail governative e personali devono essere portati in giudizio e ora devono venire interrogati sotto giuramento. Penso che alcuni abbiano commesso dei crimini e che serva un'inchiesta. Questo è un aspetto del rapporto molto preoccupante, la distruzione delle prove. Ne abbiamo sentito parlare mesi fa, ma ora è documentato. Ho un po' di esperienza in questo campo come ex procuratore per la sicurezza nazionale e difensore pubblico federale. È semplice. In un'indagine federale di qualsiasi tipo, nessuno può distruggere le prove. È illegale. Ovvio, non serve essere avvocati. E cosa succede quando dei funzionari pubblici partecipano alla distruzione di prove? C'è stata un'indagine al Ministero della Giustizia. Hanno indagato su Donald Trump con un procuratore speciale per anni, dopo il 6 gennaio. E se avevano prove di innocenza e le hanno distrutte o insabbiate, a mio parere è un reato. Che si tratti di un deputato, di un collaboratore o di un semplice testimone civile non fa differenza. È sempre un reato. Penso che la richiesta di indagare su questi individui sia giusta. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto della cosiddetta prova Brady, cioè di prove potenzialmente scagionanti e nascoste alla difesa. Come si applica a uno scenario di tipo parlamentare? Si possono applicare gli standard legali alle udienze parlamentari. La Brady riguarda solo i procedimenti penali nei tribunali statali e federali. Qui siamo nei rami legislativo ed esecutivo. Ma, ripeto, non puoi distruggere e manomettere le prove con un'indagine federale in corso come era quella su Donald Trump. E se le hanno consapevolmente nascoste e hanno mentito all'America mentre consegnavano il loro rapporto della Commissione per il 6 gennaio, il problema non è solo etico in quanto parlamentari. Hanno anche mentito all'America. Bisognerebbe mettere sotto giuramento e interrogare tutti i membri della Commissione. Che risultato si otterrebbe? Come minimo ci sono dovute delle risposte. Perché lo avete fatto? Chi vi ha partecipato? Come giustificate al popolo americano che non avete reso pubblica questa deposizione di Tony Ornato e degli altri agenti del Secret Service? Perché nascondere selettivamente queste informazioni al pubblico? Credete ancora che Donald Trump abbia commesso un atto di insurrezione? Sono questioni serie su cui hanno mentito agli americani per fini politici. Questo è un primo passo. Penso che varie persone vadano incriminate per diffamazione sulla base delle testimonianze rese a questa Commissione e spero che facciano la cosa giusta. Ci sono esempi di questo tipo? Ora vediamo Tony Bobuninsky denunciare Cassidy Hutchinson per diffamazione. Io non voglio commentare. La sua memoria parla da sola. Ma questo è un grande passo. E credo che Cassidy Hutchinson abbia mentito sotto giuramento anche altre volte. È anche sottoposta a un procedimento federale per aver mentito sotto giuramento a funzionari federali. È un reato. Non so se il Ministero della Giustizia farà lo sforzo di indagare, ma è un reato. Se andassi io a mentire agli investigatori federali, verrei senz'altro incriminato. Ma c'è anche il fallimento della sicurezza e dell'intelligence che questa Commissione ha documentato. Vuoi commentare? Le prove che l'FBI aveva giorni prima del 6 gennaio che ha nascosto, che avrebbero dovuto essere condivise, ad esempio con me al Ministero della Difesa e con gli interni, eccetera, sono state insabbiate o sminuite dall'FBI, che ora deve giustificare il perché. Perché non le ha condivise? Dobbiamo capire fino in fondo quale sia stato il ruolo dell'FBI, perché l'FBI due o tre anni fa ha detto «Noi non vi abbiamo preso parte, né con informatori, né con soldi». E invece l'FBI aveva talmente tanti informatori in giro il 6 gennaio che ha dovuto fare un sondaggio fra tutti i suoi uffici per capire esattamente quanti fossero. Quindi credo che le risposte ci siano dovute, perché sono stati usati i soldi pubblici. Come poteva l'FBI sapere con mesi di anticipo perché questo tipo di operazioni si pianificano mesi prima, che il 6 gennaio sarebbe successo qualcosa. Come fa a dire al popolo americano che non aveva idea che il 6 gennaio sarebbe andato come è andato? Sì, a quanto pare ci sono molte cose da capire e questo rapporto aiuta a capire meglio i fatti. Ma ci sono ancora molte domande senza risposta. Quali sono le più importanti? Per me ci sono moltissime domande. Quanti agenti e informatori in totale c'erano? Quanti soldi pubblici sono stati spesi per essi? Quanti agenti dell'FBI, compreso il direttore, hanno ingannato il Parlamento, magari mentendo? E le altre agenzie governative? Penso che al popolo americano siano dovute queste risposte, soprattutto a chi è stato processato per i reati connessi al 6 gennaio. Il Ministero della Giustizia e l'FBI confermano la loro versione sul 6 gennaio. Hanno dichiarato abbiamo processato circa mille persone e altre mille le abbiamo incriminate. Hanno appena arrestato un giornalista che il 6 si trovava all'interno delle aule del Parlamento per fare un servizio. Nient'altro che il suo lavoro. E lo hanno incriminato di un reato federale. Ora che facciamo? Arrestiamo i giornalisti che lavorano nei teatri di guerra? Questo è un terreno pericolosissimo. C'è anche la questione dei tubi esplosivi. Noi abbiamo fatto uno speciale con Julie Kelly in proposito. Tu cosa ne pensi? Io, da ex procuratore per la sicurezza nazionale, se c'è una bomba a tubo nelle vicinanze del vicepresidente degli Stati Uniti, mobiliterai tutto e tutti. Abbiamo un video che mostra un tizio coinvolto in uno degli attentati dinamitardi che se ne va in metropolitana. E poi l'FBI pare ne abbia perso le tracce. Ma insomma, come è possibile che non sappiamo se gli ordigni fossero meno inerti. Fortunatamente lo erano, ma è irrilevante. C'è stato un tentativo di attentato vicino al Parlamento che avrebbe potuto uccidere decine di persone in una giornata in cui c'erano migliaia di persone. E qui l'FBI non dice niente, ma devono dirci loro cosa è successo. Perché l'indagine si è arenata. Bisogna assolutamente scoprire i responsabili. William Shipley, che è il difensore di credo più di 50 imputati del 6 gennaio, dice che molti di questi procedimenti hanno motivi politici. Come commenti? Penso sia verissimo. Penso che abbiamo una magistratura che usa due pesi e due misure e spara nel mucchio. E la giustizia non lo nasconde. Tornando a quel giornalista, se uno ha commesso dei crimini violenti o dei reati federali, ovviamente va processato. L'ho sempre detto, che sia del 6 gennaio o qualsiasi altra cosa. Ma usare i processi per perseguitare i tuoi avversari politici, come stanno facendo a molti per il 6 gennaio, incriminandoli o condannandoli a pene eccessive, è una prassi sbagliata che molti giudici di Washington hanno avvallato. Quindi, qui servirà un altro livello di indagine sulla condotta della magistratura, ma mi pare che siamo ancora lontani. E certe persone sono tenute in carcere per molto tempo senza processo. Quindi è uno schema. Si va nella stessa direzione. Esatto. Io non ho mai visto il contrario. Non ho visto persone in attesa di giudizio da più di due anni e trattenute senza cauzione. Ma la Corte Suprema ha appena annullato alcune sentenze relative al 6 gennaio. Quindi, finalmente si sta arrivando alla Corte Suprema. Potremmo vedere altri cambiamenti. Per totale trasparenza, tu hai una fondazione che aiuta alcune di queste persone. Sì, non solo le persone che sono state punite per il 6 gennaio, ma anche gli informatori che si sono fatti avanti e tutta una serie di altre situazioni. Lo scopo della fondazione è semplice. Se siete accusati di un crimine non violento legato al 6 gennaio e avete bisogno di soldi per pagare l'affitto, il mutuo, la retta dei vostri figli, le spese legali, cercheremo di aiutarvi. Molte di queste persone non hanno i mezzi per combattere in tribunale questo Moloch. Cash, qualche considerazione finale? Allora, vorrei lasciare questo al pubblico. Insurrezione. Scagionamento, come ormai lo chiamo io. Dimenticate tutto ciò che ho detto. Lasciate perdere proprio tutto. Com'è possibile, dal punto di vista sia materiale che legale, che Nancy Pelosi, la polizia del Campidoglio e il sindaco Bowser rifiutino la Guardia Nazionale se il presidente Trump non l'ha prima autorizzata. Per me, questo dice tutto. E ora che le ricevute sono pubbliche, forse potremmo finalmente arrivare alla verità. Bene, Cash Patel, è stato un piacere riaverti qui. Grazie, Ian. Buona giornata. Grazie.